Ciao ragazzi, benvenuti su un tivosaggio, siamo in una reaction di parodia animata su Clash Royale Clash Royale E come vedete ragazzi, se notate qualcosa di strano, ho cambiato occhiali Giù, stai io Giogna, però non devi sempre... Ok, ci diamo un Clash Royale Ci diamo un parodia Sì, intanto l'arbitro Goblin ha già vinto tutto Non l'arbitro Goblin ha già vinto tutto No, vabbè A caso lì è arrivato il tronco addosso Attenzione, i barbari scelti Per chi non lo sa, questi sono barbari scelti Perché nella touchdown ti compaiono con Oh, il Gran Cavaliere è la mia preferita Ti compaiono con il casco da rugby Grande, Gran Cavaliere Oh mio Dio No, il Dragon's Armai lo sconfiggio No, il Dragon's Armai lo sconfiggio Abbiamo uno sinorabico Attenzione, è grande Attenzione, lo secondo elettrico Il Dragon's Armai, anche se era contro Il Dragon's Armai non aveva speranze Perché lo secondo elettrico vince sul Dragon's Armai Perché non lo sa Ma perché i Goblin erano nudi? Non lo so Forse non li hanno disegnati bene No, la torna infernale Ai, ai, ai Lo sapevo io Oh Oh, ma meno un po' di tonno però Gli ha dove vado Che voglia, dove vado Che voglia, dove vado Grande, grande Il Massimino Lavico Il Cuccio Lavico ha fatto il touchdown Grande Gigante principessa Attenzione E' là, ma che battaglia è? E' gioia, io non sento Occhio Occhio, l'arcieri Ha uno di vita, torre No Che? 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 Ah, mi ha detto Io ho già visto insieme Però questo Peccato che non potrei Tassare i capelli E' là, ma che battaglia è la barba E' là E' là Dai Dai, mamma Dai, mamma Dai, mamma Addirittura Ah Sì, cosa vuol dire? Aspetta con la Con la sfena impugata E mamma c'è via Subit, c'è Bé, mamma Non so C'è via Non so Why? Non so Ok Mò, ma rie E' là Dossa PARA BAPA PARA BABAY PARA BABA PARA BABAY lààààèè chi nuovo B0 Bund ma cosa succede? mi so che non puoi succedere adesso appunto no, non ci credo il gigante innamorato è che prima era innamorato scusa non ci credo il gigante innamorato grande i giant ma il gigante c'è sempre a difendere tutti non è vero che ragazzi potrì scioglie ad aria è morto uno schottiere non è vero potrì scioglie ad aria non è vero che ragazzi 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 no non mi a conto sempre un gigante non mi attaccanto ma non faccio come cosa fervo hah ehhh e hiring non fate magari di 이러 all'interno Aspettate un attimo, scusate, da bambini, Royal Kindergarten. 10 mi piace, raga, solo per questo, cioè io l'ho già visto però mi sembra, e si fa male, ora che si fa male, lo sapevo, lo sapevo, il martellino, il maglialino, non neanche il cinghiale, il maglialino, eh, vedo. I ghiaccerini, ma sono tutti felici, imbaciatore, ci sono tutti, un scherzo gigante. Ah, ma invece della bomba, della bomba, del palloncino, non ci credo. Cioè, ma poi c'è un, un maestro, non ci credo, il maestro, il re. Ma perché il re rosso, che sculaccia il, lo scherzo gigante blu? Ma non ha senso. Guarda, non ha senso. Guarda, cosa vuoi ridere, guardate, questo è il mio amore. Ah, ma dov'io usare un po' di Xperia. Ah, ma quando la bomba è? shelf patio rotto, non bagallare. Ah, guarda, putti. Merre blu! Royal map. Sleppa! Sleppa! Così? non c'è questo non c'è un po' non c'è un po' è un po' il non c'è un po' ma l'ha mio zio ma l'ha ma l'ha ma l'ha cosa sono le altre Questa era un po' scontrata, raga. Un'altra bomba. Raga, c'aveva un'altra bomba. Ma questo non gli ha dato il bombarolo. Lui ha lo schietto gigante addirittura. Oh, ma il bombarolo deve essere mini. Allora, iniziamo con gli slime fatti da me. Il bombarolo, la telebombardiera, è contento il bocciatore, è contento. Vedete che contento il bocciatore. Ok, quella è un magico che ho scelto il bombarolo. Io ho già visto tutte queste, raga. So che non ve lo anticipo. Ma perché lo copro? Cioè, super certo, lo copro. Se dicevano copro, vedete? Non so che qual è, perché se è un'altra bomba. Non so che cosa. Oh, ma non so. 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 Cosa è successo, guardando la camera quando guardo l'acqua Fare il bagno nel slime Vorreste... sono pronto o no? Allora, il pokémon più forte al mondo Anche voi ho detto che non l'avete mai trovato Cos'è successo? Guarda che vento si è fatto Non si è fatto un bellissimo Eccolo Ma dai, ma si dovrebbe essere che si perpelle tori Mamma mia, mi sono una schiera che impressiona Sì, grazie Ancora avvari Sì, wow Ora vado ad aggiungere un altro slime smoothie Non so se ve lo ricordate Dalla slime smoothie Nella video con il mio ragazzo Sì, è assurdo Questo sembra, vabbè A parte che sembra tantissimo Guardate che consistenza strana che ha E' il mio amico e il mio amico e il mio amico Nel gran cavalliero È un è anche un po' Un po' di bifbi Comunque, a me sembra Senetto Probabilmente un è sotto Andiamo a metterlo al contrario Occhio ma chi è? ah si che l'ho già visto non me lo dico anche a me mi sembrava il gran cavaliero prima io fai la dub perché quel raggio? ma no il pubicontinuo Vabbè l'ho già visto, però non mi ricordavo sta roba, sinceramente. Addirittura. Ok, allora, questo video termina qui e vi posso salutare con un bel ciao.